Buonasera a tutti e benvenuti. È sempre piuttosto difficile parlare di intercettazioni telefoniche, anche perché da sempre, sia per quanto riguarda l'estensione di questo argomento nel nostro codice di procedura penale, sia per quanto riguarda l'immaginario popolare, vi è grande diatriba su che cosa intercettare, quando intercettare, che cosa utilizzare, con riferimento a politici, gente dello spettacolo, persone normali, criminali e quanto altro. Anche perché, da un lato, intercettare con il telefono qualcuno risulta un atto estremamente invasivo di quella che può essere considerata la tutela della privacy, ma dall'altro viene anche considerato un atto dovuto proprio per cercare di scoprire e reprimere e punire delle attività illecite. Ancora più, in un periodo come questo, dove il sospetto, la paura, la psicosi del terrorismo aleggia in tutta Europa, il tentativo o la ricerca, in buona fede, vogliamo dire, da parte delle istituzioni, è quella di controllare e monitorare al meglio tutto e tutti, proprio per captare in qualunque momento situazioni pericolose per l'intera comunità. Ora, accade che recentemente il nostro governo, nel ragionare un decreto legge in tema di intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento all'accesso al web e al computer, accade, ripeto, che il governo, nella stessa persona del presidente Renzi, abbia posto una sorta di veto, di moratoria, di sospensione sulla parte relativa all'accesso, si dice da remoto, credo, ai computer dei privati. Questo perché? Perché arrivare ad intercettare, al di là della telefonata, riuscire ad accedere a quello che è il computer di casa nostra, in realtà porterebbe l'operatore che sta utilizzando questo sistema non tanto a captare quella notizia particolare alla quale vorrebbe attingere, ma addirittura ad entrare sostanzialmente in quello che è tutto il nostro patrimonio telematico, informatico depositato presso casa nostra. Con tutta una serie di informazioni che ci possono anche riguardare, ma che non riguarderebbero invece l'attività di indagine, ritenute, lo ripeto, lesive della nostra privacy. Questo piccolo passo indietro da parte del governo Renzi è stato apprezzato fortemente dal Parlamento europeo, che comunque ha parlato di un atto saggio, meditato plauso dello stesso garante sia in tema di Parlamento europeo, quanto dell'ex garante anche della privacy Stefano Rodotà, che comunque ci avvisa e ci dice che atti di tal importanza, che vanno così tanto ad incidere su quella che è la personalità e la privacy di ognuno di noi, ecco, non sono atti che possono essere così stabiliti di punto in bianco con un decreto legge, che è una forma di decretazione, è una forma di attuazione di provvedimenti, chiamiamola spiccia, senza particolari magari approfondimenti. Ed ecco che senza particolari approfondimenti approfondire quello che è il nostro intimo, quello che è il nostro sentimento, a prescindere da crimini, reati, terrorismo o quanto altro, ma accedere alle informazioni più intime di ciascuno di noi, sicuramente non è un atto che possa essere disposto con leggerezza, ma dopo avervi assolutamente e prima ben meditato. Inutile anche per quello che è stato l'appello del nostro governo nel sospendere questo provvedimento rivolgersi ai giornalisti e dire, ma ecco, dateci voi anche delle linee guida su quella che è una buona legge che potrà regolare le stesse intercettazioni del telefono, ma anche del computer, ma anche del web, anche perché il giornalista da sempre pubblica e comunque pubblica tutto ciò che possa essere utile o meno alla propria testata editoriale, con valutazioni in tema di etica diverse, ecco, ciascuna testata, ciascun giornale può decidere, può valutare con una propria etica ciò che è meglio e ciò che non è meglio pubblicare. Ovviamente di problematiche in tema di intercettazioni ne abbiamo viste tante, ecco, tante volte sono stati intercettati personaggi politici piuttosto che personaggi del mondo dello spettacolo per situazioni piccanti, picaresche, delicate, che comunque nulla avevano a che vedere con quella che era poi l'indagine a loro ascritta. Ed allora, ecco, chi intercetta, chi decide, chi valuta, se non il giudice, cosa può essere meglio in tema di materia di intercettazioni? Non affidiamoci ai giornalisti, non pensiamo in 4-4-8 di poter decidere in un attimo, il tuo computer da oggi può essere da me visto e rivisto in ogni modo, ma riflettiamo proprio perché violare la tutela della privacy anche con l'ombra del terrorismo è sicuramente un passo fortemente lesivo, fortemente invasivo di quella che è la nostra sfera privata. Un decreto legge non è lo strumento adatto per potervi porre rimedio. Grazie.